vai vai leader magari la cosa cosa pesca armi ai resistenti minchia pure a me no perché io cioè dovrò fare cos'è poi poi aspetta poi Eh, va bene, le armi alte ce le ho detto, sì, ah ecco, queste ti possono scambare, ti possono scambare armi di passa? Ma le attivazione ne hai? Sì, 14, dimmi cosa 14? Ma la chi ce ne hai? Eh, mi serve. Bene, aspetta, ho sbagliato. Allora, non so. Ma le attivazione ne le puoi scambiare? Sì, ne posso scambiare bene. Di male? Sì, è una malattia. Le armi più forti che hai quelle? C'era anche tu. No, no, però ne posso scambiare, quelle sono troppo forti. Eh, aspetta, vai nel... Vai nel deposito a prendere l'arma più forte. Ti do l'idea. Ma però non te la troppo, eh? Cosa? Parla. Come? Non so, non posso vederla. Siamo tutti in rango uguali. Non so, non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so. Non so, non so, non so, non so. Guarda cosa ho, Simo. Che cazzo? Rattatate. Quello ha il 20, livello 1. Ah, allora fa che cazzo. Ti muove. Eh, faccia così. Non la scambio. Ah, non la scambio. A parte... L'arma che scambi è più forte che hai. Io cerco dei materiali per i materiali, sì. Non serve esistente, c'è mai. Eh, mi servono un botto. I cebolloni ti servono. Eh, ciò che vi... Posso venire, Sara? Sì. Spero un attimo. Hai tipo arcobaleno... Hai tipo arcobaleno... Scaglia. Scaglia buia. Eh. Scaglia buia. Questa la prima donna mi serve? Eh, raggio solare. Mi servono quella donna. Sfattrolite. Non posso scambiare. Sfattrolite. 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 Ma quanto ne vai di resistenti? Eh, troppo quanto ne vai di resistenti. Cosa hai detto? Ma lì è troppo quanto ne... Quante... Quante ne vai di resistenza con miseria? Io di resistenti ne ho 70. se no cosa mi puoi dare per cosa mi puoi dare per 5 di scaglia e cosa mi puoi dare per quello ti potrei dare 5 di pace e 7 resistenti 10 resistenti 7 e 6 5 di scaglia e tanto 5 di scaglia per 7 di pace e 7 resistenti ci perderei un bottissimo tipo 20 resistenti e 5 tv cl e bella scaglia anche va a tenere se non si fida no 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 è una fredda no questo adesso no questo questo è frigo questo è ancora Sì, sì, lo conosco, ehm, quando completi a Xylvania. Sì. No, di materiali rari. Cosa? Ah, no, ti hai mai detto, sì. Ah, è vero. Non me ne ero manco accorto che mi avevo messo. Mi sembra... è resistente, dai, è resistente lo scavo. Aspettiamo, quanta ne hai da di resistente? 37. 5 di... Io ho il progetto del Bluetooth della 67, sto apposta al 68, di 367... 2 di scaglia per 20 di resistenti. Mia, per 20 di resistenti. Se io ti do 2 di scaglia, mi puoi dare 20 di resistenti. 2 di scaglia. 3 di scaglia. Allora, se... Ah, no, 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 no. Vabbè, 20 di resistenti, 3 di scaglia. Ok. Vai, droppa. E non ho troppo più. E devo vedere se sono veramente 20. E anche... però tu me lo troppiamo, non la voglio. Tu droppi... ok. Tanto sono solo 3. Oh, aspettiamo. Fai tu, Tocci. Cosa? Vabbè... E quando è che hai droppato? Eh? Quando è che hai droppato? Eh, spero, non mi ricordo più cosa dovevi droppare. Ma che cosa sei che ci vuole? Ma cos'è che volevi? Per eventi resistenti? Puoi droppare anche qua, eh. Puoi droppare anche qua, però la volta. Ma cos'è che vuoi per eventi resistenti che non mi ricordo più? 3 di scaglia. Ah, è vero. Ma è droppa. Io mi continuo a muovere. Vai, ritieni. Che tu fai tu... Come on, man. Bella, bro! E cosa ti ho fatto? Hai troffato qualcuno, vero? No. Nella tua mità... A lui l'hanno troffato ieri. I miei iscritti... Ti ha... Ti ha... Ti ha iscritti! Guarda! Ne ho 63, vuoi andare a vedere? In 63 ci sarà qualcuno che me li segnala? No, a me nessuno si gara. Eh, tu c'è un canale YouTube? A me, io. No, anche no. E' Gigi. Oh, ecco più anche di serpito. e gg bella bro bella bro è giusto per dire oggi a te e mai a me e niente raga un altro truffatore scovato un altro truffatore truffato un altro truffatore sgamato ho truffato un truffatore ovvio e tanto per dire oggi a te e mai a me il video della truffa mi sia piaciuta non vi fate mai truffare con questo con questo metodo che ho usato io lui mi voleva truffare lo so da come mi aveva scritto sulla play e tutto cioè si vedeva proprio che mi volete fare io l'ho fatto solo per questo perché sapevo che lui era un truffatore e non fatevi truffare con questo metodo che hanno rimesso che si può riprendere a tutti e due lati state molto attenti non fatelo esatto raga state molto attenti e niente raga spero che il video della truffa vi sia piaciuta lasciate il like iscrivetevi e niente bella bello grazie a tutti grazie a tutti